Mi rendo conto delle difficoltà che il tema dei migranti pone in Europa, ma non dimentichiamo che 4 milioni e 900 mila migranti vivono oggi in 7 paesi africani meno sviluppati. A livello globale il 28% dei migranti si concentra in paesi di questo tipo. Il governo dell'Uganda spende 9 milioni di dollari per i rifugiati, il 4% del suo budget. Ci sono altri paesi africani che hanno risorse più scarse, ma che sarebbero pronti ad accogliere i migranti. Dal mio punto di vista i paesi europei hanno l'obbligo morale di far fronte a questa situazione, a questo problema, non solo accogliendo i profughi, ma anche aumentando le risorse per lo sviluppo dei paesi africani, affinché questi a loro volta possano occuparsi dell'assistenza umanitaria.